Oggi voglio farvi vedere un tipo di pesca molto particolare, è una pesca al granchio che facciamo con la canna da pesca e questa sorta di gabbia. Come vedete all'estremità ci sono sei lacci e questi servono praticamente a imprigionare il granchio che cerca di mangiare l'esca. Quando sentiamo che il granchio sta tirando la nostra gabbietta, quindi si vedrà sul cimino della canna, dobbiamo fare altro che recuperare e se siamo fortunati una chela capiterà dentro una zampa e dobbiamo soltanto recuperarlo senza mai fermarci. Finciamo e vediamo se funziona. Vedete la gabbietta ha funzionato benissimo e si è andata a prendere proprio sulla chela, questo non si poteva togliere mai.